Bella ragazzi, ciao a tutti, sono ADC e come di consueto andiamo a vedere subito con un bel video di approfondimento di 17 minuti la nuova patch appena uscita. Allora, la patch appena uscita ovviamente è dedicata ai nomadi, desert nomads, vedete qui, soliti 7 eroi più release speciale, 2 ex e 5 non ex, quindi andiamo a vederle tutte in ordine. Allora, prima fra tutti, Ozymandias, vediamolo qui, ce l'ho pronto, bene, Ozymandias è stato potenziato con l'output, sostanzialmente ha due cambiamenti rispetto alla vecchia carta, output maggiorato non di moltissimo ma quello che serviva e soprattutto il Purify. Il Purify è la chiave di questo nuovo design di Ozymandias perché sì, l'output è forte, naturalmente, adesso finalmente è un eroe come si deve, andiamo a vedere il suo output fra un minuto, ma questo Purify è quello che lo rende finalmente davvero giocabile in meta perché gli consente di resistere ai meno damage, di diventare pericoloso anche per i personaggi con polvere e questo era importante perché lui ha smite, quindi ha castigo, però i personaggi con polvere prima comunque lo battevano perché la polvere è la più forte dello smite 1, insomma, quindi la purificazione è buona e soprattutto lo ripara da, appunto, dal meno damage, che era quello che lo fregava, terrore, palle di fuoco varie, odio varie lo distruggevano e adesso non più, almeno non così tanto. Allora, andiamo a vederlo, il suo output è davvero, davvero ottimo, qui si dà per scontato che combatta contro un eroe con 140 punti di forza, quindi un eroe assolutamente normale, ma ovviamente Ozymandias sarà fortissimo contro i personaggi con una grande strength, ovviamente sarà debole contro quei maghi tipo Pilkim che hanno una strength di merda, quindi ovviamente scegliete attentamente contro chi mandarlo, però vediamo, Double Rainbow, 2745 damage e 2 Purify, fortissimo, Curse of the Priest King, questo con 3 rossi e 3 gialli, vabbè, molto difficile, 2700 damage, va bene. Curse of the Priest King 2, 2400 danni, questo è, sì, è meno importante, è meno forte soprattutto perché è difficile da ottenere e non è che sia particolarmente forte. Solo l'ascension, ascension 1 and 2, l'ho pronunciati malissimo, questi però sono forti perché hanno una percentuale di shock notevole e purificazione, quindi hanno 2040-2280 danni con 2 o 3 Purify perfino. Quelli più importanti ce li abbiamo qui, altri Double Rainbow, 1 and 2. Il primo, 2445 danni e 2 Purify, molto forte, e il secondo ancora più forte, 2575 damage, 1 Purify. Tenete presente che questi valori, nel caso in cui Ozy vada a scontrarsi contro gente come Kizzano, Maldrez, eccetera, aumentano tantissimo, d'accordo? Soprattutto, la cosa che ci interessa di più sapere, ho fatto un po' di calcoli prima di fare questo video, non vi sto a dire i numeri esatti, però sappiate che sì, Ozymandias è forte contro Kizzana, questo era quello che tutti volevamo sapere, e sì, Ozymandias molto spesso vincerà contro Kizzana anche con Kizzana attaccante, d'accordo? Anzi, soprattutto, quindi Ozymandias è un'ottima risposta a Kizzana attaccante. Lei attacca, tu rispondi e vai senza problemi a vincere, senza problemi fino a un certo punto, nel senso che ovviamente ci sono dei roll che saranno difficili, però ha maggiori probabilità di vincere Ozymandias, quindi sia contro Kizzana sia contro Maldrez, e se gira almeno due blu, Ozymandias può vincere abbastanza tranquillamente anche contro Odio, e questa era una cosa importante, non da poco, quindi in metagame sì, Ozymandias lo vedremo, finalmente posso dirlo con abbastanza certezza, avevo fatto qualche calcolo, e credo che Ozymandias sia un'ottima carta da meta. Poi vedremo nel giudizio complessivo della patch che cosa ne penso in generale, ma Ozymandias carta da meta, forte, molti danni modificabili perché si cura tantissimo, eccetera. Secondo eroe, secondo eroe, oh, Idris. Idris è un eroe che mi piace moltissimo. Allora, prima era una brutta copia di Amnesty e di altri eroi, era un classico backstabber, forte backstabber, però niente di che. Adesso Idris è una macchina di morte counter specifico, d'accordo? Quindi innanzitutto non lo considereremo uno stand alone, è un personaggio che riguarda l'output è piuttosto basso, guardate, vedete, 1530 damage, 1900, 1800, 2100, 1500, di base diciamo che mediamente sta sui 1500-1600 danni, d'accordo? Quindi non molto, non molto, molto poco. Idris però è un muro, un muro assoluto contro gli heavy hitter, gli utilizzatori di forza e gli utilizzatori di polvere. Basta, Idris li elimina completamente. Quindi Idris in difesa sarà terribile contro Kizana, sarà terribile contro Maldrez, sarà in attacco, distruggerà Pukos, distruggerà, ah, naturalmente anche Eclisse, quindi distruggerà anche, per esempio, personaggi che si curano molto e che usano la forza, non so, Ebano, oppure Fiammata, per esempio, d'accordo? Tenete presente che questa patch Eclisse sarà presente parecchio ed è una skill molto importante. Idris infatti rischia di essere molto cattivo anche contro personaggi con Scarab, per esempio, d'accordo? Quindi prestate molta attenzione. E questa sua natura di multi-hitter, perché comunque ovviamente non è un multi-hitter, però può fare degli hit notevoli, insomma anche 5 o 6, lo rende appetibile eventualmente per dei buff di Astria, d'accordo? Quindi Idris potrebbe essere un personaggio giocato nella patch, scusatemi, nel team Astria come counter. Ovviamente state attenti quando giocate a Idris in team, perché se lo accoppiate contro un personaggio che non è un heavy hitter e non usa le spade e non ha la polvere, insomma, o qualcosa del genere, perderà quasi sempre perché ha un output molto basso, ovviamente, ok? Per il resto è ottimo. Tra l'altro il fatto che questa conta doge sia su singolo dado lo rende molto flessibile. Ci ho fatto una partita prima di prova e ho rollato 4 gialli, un rosso e un blu. Ho fatto pochissimi danni, tipo 400 danni, una cosa così. Anzi no, 300 danni e basta. E però avevo 8 dodge e basta e ho vinto così. Vabbè, comunque. Quindi mi piace molto perché è molto specifico. Voi sapete a me piacciono le carte specializzate. Lui è assolutamente specializzato. È una carta che ci voleva, insomma. Ci può stare. Diciamo che se... È, diciamo, un po' la controparte per gli heavy hitter di Odio. Ok? Passatemi il concetto. Odio counterava i multi-hitter e counterava gli utilizzatori di forza. Idris countera sempre gli utilizzatori di forza ma stavolta gli heavy hitter. La differenza, ovviamente, Idris è molto meno forte di Odio per un motivo semplicissimo che Odio aveva il debuff di gruppo. D'accordo? Quindi, ovviamente, Idris è meno utile in squadra di Odio però in compenso c'è anche quell'eclisse che può tornare molto utile contro personaggi che si curano o con Scarab. Perciò mi piace Idris. Carta da meta? Non saprei. Io penso che la giocherò e mi piacerà giocarla. È una carta da meta come possono essere tutte le carte counter quindi John, quindi Asagiro, quindi insomma, quelle carte lì. Una carta da counter che mettete se vi aspettate che in meta ci siano tanti utilizzatori di forza. Avete visto tutte le parti Kizana, Malderez, Cabrakan, Melina e gente varia. anzi no, Melina no perché lo batte. E gente varia. Ci mettete Idris e giocate. D'accordo? Quindi però non vi aspettate che sia una carta da mettere diciamo a mani bassi in tutti i team. Ecco. Poi, Idris quindi positivo. Oh, Giamena. Giamena mi piace moltissimo. Anche questa è molto bella. Innanzitutto, beh, vedete, finora gli eroi mi stanno piacendo tutti parecchio quindi Giamena è stata pompata in vari modi. Allora, la prima cosa caratteristica scusate, eccola qui, che è stata fatta è stata sdoppiare il suo Blessing. Lei prima aveva Blessing 150 quindi purificazione, no scusate, Blessing, come si chiama? Adesso non mi viene, che miseria. Benedizione. Benedizione 150 su doppio dado rosso è stata sdoppiata quindi adesso su singolo dado rosso Benedizione 80 quindi è stata alzata leggermente, non molto ma leggermente ma questa sdoppiatura sullo singolo dado le permette di essere incredibilmente più flessibile quindi flessibilità a tutti gli effetti fortissima. La seconda skill è stata raddoppiata di potenza rispetto a come era prima vedete invece di Hit 350 diventa Hit 700 però attivabile una volta sola del resto chi se ne crede è raddoppiata e tutti lui diventano spade questo è molto utile grazie alla conta Blessing e infine è stato alzato il suo smite quindi il suo castigo che è stato portato a castigo 3 ora voi sapete che io l'ho detto più di una volta oramai che se castigo non è in ultima skill e non ha 3 è praticamente inutile in realtà contro l'utilizzazione di forza o meglio più che inutile è meno forte del backstab quindi del colpo basso ecco Jamena però ha smite 3 in ultima skill accoppiato con purificazione per cui diventa un incubo per tutti gli utilizzatori di polvere di nuovo Jamena è un'altra dei responsabili insieme a Idris e vedremo anche a Nei Tiri del perché io credo che per esempio una carte come Fiammata e Malderez in questo momento dopo questa patch Nomad se ne vanno al meta almeno per il momento io Malderez l'ho giocato tantissimo questa stagione l'ho amato dopo l'uscita di Jamena Ozymandias Idris Nei Tiri eccetera io non lo vedo più molto bene quindi probabilmente non lo sockerò più almeno per la prossima season adesso vedremo quindi molto molto forte anche lei davvero davvero interessante e naturalmente i suoi roll qui vedete 2640 2650 1980 con purificazione eccetera ovviamente è un po' meno flessibile di come era Ozymandias però ancora più forte di Ozymandias quando si tratta di counterare personaggi con la forza quindi se si trova di fronte a personaggi che si aumentano la forza Jamena ci va giù duro ok questo è veramente parecchio poi allora naturalmente delle loro sinergie riguardo ai buffer parlerò dopo Ozymandias sinergizza ovviamente con i buffer preti quindi Sevilat sinergizzerà con il principe matchup di lui ne parleremo perché è importante visto che è un solariano Idris abbiamo detto di Astria Jamena anche lei è un prete quindi Sevilat anche lei principe matchup volendo se riuscite a darle un critico questo hit 700 è potentissimo quindi perché no allora poi dopo Jamena ho Nei Tiri Nei Tiri a me è sempre piaciuta la trovo forte anche prima quello che è stato fatto su Nei Tiri è molto semplice l'è stato alzato l'output non solo l'è stato alzato l'output l'è stato sdoppiato l'output per renderla più utilizzabile con i multi hit e l'è stata invertita l'eclipse quindi l'eclisse adesso vi spiego il perché ed è almeno credo che sia il perché l'ha fatto Eric ed è molto forte per questo allora ha aumentato l'output quindi finalmente ha un output davvero forte guardate 2400 con Opponent Strength 200 2200 eccetera 2300 insomma sta intorno ai 2200 2300 danni ed è un ottimo un ottimo output considerato che gioca che distrugge sia i curatori sia gli utilizzatori di forza ha uno dei backstall più forti del gioco quindi perché è dei 200 ma è in ultima skill quindi molto molto pericoloso perciò è molto forte insomma oltretutto è un umano adesso vedremo che è un umano marauder quindi ha un sacco di potenzialità di buff quindi è stato aumentato l'output che finalmente è un output decente non è un output fortissimo intendiamoci non è un output che mi fa dire ah cazzo fortissima nei tiri no è una carta con l'output giusto ok né troppo forte né troppo dable normale come dovrebbe essere non è uno stand alone neanche lei però attenzione adesso è una vera multi hitter perché ha ben due skill col doppio attacco e una skill con un singolo dado d'accordo quindi è una multi hitter a tutti gli effetti può senza problemi arrivare a fare 7 8 8 hit non è un multi hitter estremo però è un'ottima multi hitter quindi si energizza benissimo sia con spada insanguinata sia con astria inoltre è una marauder priva di schivo quindi si energizza molto bene anche con gemma occhio di gemma e ovviamente si energizza con i pump di visir come tutti i nomadi quindi ha ottime potenzialità di buff ed è un ottimo personaggio fin tanto che voi non rollate spade nei tiri sarà sempre contenta d'accordo quindi molto molto forte mi piace è accoppiata a hydris formano una bella coppia di carte antimeta e ah si non vi ho ancora spiegato perché secondo me è stata invertita l'ordine dell'eclisse l'ordine dell'eclisse a mio avviso è stato cambiato per canterare scarab cioè il fatto che l'eclisse sia prima adesso permette di ah beh a parte che forse non è un'idea mia l'ho letta solo qui vediamo se ah no no non è scritto vabbè comunque sì mi sembra che sia più forte contro scarab adesso grazie a questa questa cosa perché scarab non si attiva lo scarab in seconda perché gli mangia gli mangia l'eclisse inoltre nei tiri ha eclisse 2 quindi è una condanna a morte per personaggi che si curano molto come per esempio la dama ilit come per esempio sempre fiammata personaggi boh insomma ce ne sono vari in giro ebano ogni tanto si trovano anche l'ania ecco ci sono personaggi che girano che si curano e lei li annienta quindi questo è un'ottima carta nei tiri rispetto a idris ha più possibilità di essere subito giocata in meta idris come vi dicevo è una carta solo counter mentre nei tiri invece è a tutti gli effetti una carta da meta può essere utilizzata la vedremo penso di sì in team astria secondo me farà un figurone molto meglio di qualcuno nei team astria giocava per avere il colpo basso giocava delle cose strane se non mi viene in mente chi è che giocavano ho visto giocare roba strana vabbè nei tiri diventa il colpo basso delle squadre di astria quindi va molto bene poi 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 oh netijim ecco netijim non mi piace mi spiace è l'unica carta di questa patch che non mi convince nel senso che ovviamente è leggermente migliorato rispetto a quello di prima quindi da quel punto di vista sicuramente è meglio di prima e non gli si può dire niente è stata aumentata e la prima skill è invertita l'eclisse di nuovo per eventuali scarib anche se boh in prima skill non ci possono essere però insomma va bene è stato aumentato e l'ultima skill è stata migliorata parzialmente è un po' più forte di prima anche se prima aveva quel meno damage della palla di fuoco ma insomma è forte poco più di prima più o meno lo stesso la skill centrale purificazione 1 è stata messa prima quindi buona purificazione e fireball 400 vabbè e fireball 400 il problema di netigim qual è? che è migliorato però il suo output è migliorato veramente poco rispetto a prima ha un output troppo basso per quanto mi riguarda perché è un prete i preti devono essere perlomeno siccome non hanno tante sinergie di gruppo i preti devono essere perlomeno degli stand alone avete visto che Jamena e Ozymandias stavano sui 2005 2006 2007 eccetera netigim sta sui 2002 2003 2004 ma con dei roll super specifici quindi boh perché giocarlo non ne ho la minima idea nel senso che è migliorato rispetto a prima ma purtroppo secondo me è completamente schiacciato da miliardi di preti migliori di lui non è un multi-hitter quindi non lo giocherò nella squadra Astria se devo fare una squadra mono-preti ci metterò dell'altro se dovrò fare una squadra non lo so mono-solariani lui non ci può entrare perché non è solariano se dovrò fare una squadra mono-nomadi noi non ci entra perché ci sono molti nomad più forti come stand alone in un'altra squadra non ce lo vedo perché ha dei valori troppo bassi e inoltre adesso va sotto a tutte queste eclissi che girano lo distruggono perciò ha uno smite 1 qui che è ridicolo diciamocelo nel senso che non può essere considerato come un counter alla forza quindi no mi dispiace Netigim lo boccio non credo sia una carta da meta credo che possa essere un'ottima carta coltellino svizzero diciamo per i principianti coltellino svizzero perché come al solito è qualcosa di multi-hit ce l'ha all'eclisse al purificazione alla fireball a un piccolo castigo a una bella cura quindi Netigim è sempre stato questo personaggio molto versatile rimane un personaggio molto versatile e questo è positivo sicuramente quindi per i principianti può essere una buona carta da mettere in team io la mia prima master ci sono rimasto un po' male per Netigim perché ci sono molto affezionato nel senso che la mia prima la prima stagione in master l'ho fatta con Netigim ovviamente il vecchio Netigim e e speravo che diventasse di nuovo competitivo invece credo che che no che possa essere usato a bassi livelli però non ce lo vedo non ce lo vedo assolutamente né in champion né in master league ecco quindi mi dispiace però questo non mi ha convinto oh il principe matchup qui finalmente abbiamo qualcosa di cui parlare di succulento allora il principe matchup era stato riconosciuto come il più grande fallimento di Eric tanto che era stato soprannominato Merchup per la sua inutilità completa era un personaggio che si basava praticamente unicamente sulla risposta aveva un output bassissimo e non non era forte insomma non si poteva giocare avevo promesso che se Eric l'avesse reso giocabile avrei smesso di chiamarlo Merchup e infatti ho deciso di rispettare la promessa perché ritengo che Merchup sia giocabile adesso anche se ci sono un po' di ragionamenti da fare allora innanzitutto vabbè è migliorato l'output ha una conta dodge più alta e più sicura basta rollare un blu e lui vedrà sempre due dodge non è più dipendente da risposta e quindi insomma è buono è leggermente aumentato ha dei vedete rispetto prima gli sono aumentati i valori e gli è stata tolta la risposta in sostanza dov'è che era ero qui eccolo qui vedete come i valori sta sui 2100 insomma ha intorno ai 2000-2100 di output che è appunto per un buffer è una cosa normale insomma un buon livello quindi ne sono contento non sì non penso che non penso che si potesse fare tanto meglio insomma mi piace va bene allora il problema che vedo sono due il primo sì molti dei solariani molti dei solariani sinergizzano molto bene con Principe Match in particolare Saelic in particolare il nuovissimo Ozymandias che ovviamente ci va a nozze e poi ce ne sono altri due ma tutti i multi-hitter vanno a nozze il problema qual è? il problema è che il motivo per cui io volevo giocare il team solariani è perché ritengo che Shere Khan sia una carta fortissima fortissima e niente Shere Khan fa pugni con Principe Match non solo ma se metto Principe Match e Shere Khan poi dovrei mettere tre multi-hitter ma si incastrano uno tra loro insomma ho fatto un po' di conti e ho l'impressione che la squadra solariani purtroppo continui a non essere giocabile se non appunto per For Fan insomma magari sicuramente in uno dei prossimi gameplay buffoni la butterò su e andrò a fare punti in Master League rubando le partite però non la vedo seriamente giocabile e questo è un discorso che vi farò anche appena andiamo a vedere la prossima carta che dovrebbe essere il Visir e cioè ho l'impressione che questi buffer sia Visir che Prince e Matchup purtroppo non siano a livello dei buffer che al momento governano il gioco mi sono fatto l'idea che in questo momento ci siano quattro buffer che ti permettono di giocare ad alto livello e sono Carcasse prima di tutto Dakezza Astria e Mangianime basta questi sono i quattro buffer i punti di riferimento ok? questi buffer sono a un livello che ti permette di giocare in Master League purtroppo io credo che Prince e Matchup e anche il Visir Mahmud che vedremo fra poco non siano a questo livello perciò temo non sia abbastanza d'accordo? detto questo comunque è giocabile ne sono contento ha perso il titolo di Merdchaff adesso è decisamente una cosa che è decisamente un buffer utile e spero che in futuro comunque i solariani possano essere utili perché Shrikan io non mi arrendo devo trovare il modo di giocarlo perché sono convinto che possa essere una carta da meta e quindi va bene Visir allora Visir gli è stato fatto un trattamento un po' particolare gli è stata aumentata la conta di resistenza rendendolo più forte dal punto di vista del buff gli è stato diminuito lo shock ma messo su un dado singolo aumentando la flessibilità e gli è stata aumentata la forza in ultima skill non di molto ma gli è stata aumentata di una ventina per renderlo più sicuro più solido sui roll quello che è stato ottenuto è un personaggio di maggior solidità rispetto a prima e di maggiore flessibilità è più utile come buffer quindi più che un prima però era più forte come output eccetera quindi più che essere diciamo stato buffato è stato rimesso a posto gli è stato fatto un restyling vedete anche qui buff restyling buff perché su qualche skill è aumentato di potenza restyling soprattutto perché è cambiato il suo stile Visir Mahmud di suo mi piace moltissimo d'accordo? cioè io credo che sia un buffer ottimo il problema di Visir Mahmud è il tipo di buff che dà ovvero resilience purtroppo secondo me è una skill che non si presta molto bene al buff e vi spiego perché perché resilience è una skill che si basa sul personaggio sostanzialmente sul personaggio che incontrerai all'avversario un po' come berserk d'accordo? ed è questo il motivo per cui tu non potrai mai essere sicuro di di avere di massimizzare l'utilizzo di resilience perciò quello che succede è che mentre i buff come il più damage oppure ira in questa cosa oppure il blessing tu puoi essere certo di massimizzarli perché li dai agli eroi giusti resilience non puoi mai esserne certo perché li dai agli eroi e dopo l'avversario decide che cosa abbinarci quindi non lo so è meno forte di per sé d'accordo? dopodiché visir di per sé è buono mi piace può dare coesione al gruppo è una buona carta non credo sia una carta da meta non credo sia una carta che permetterà dei team nomadi e qui adesso possiamo già tirare un po' le somme di che cosa ne penso di questa patch poi vedremo l'eroe speciale penso che questa sia la migliore patch come eroi dall'uscita della patch neant che in assoluto rimane la più forte perché ci ha regalato eroi come mangianime come odio come inquisitrice quindi vabbè questa è la seconda patch più forte secondo me quindi un ottimo lavoro ne sono felicissimo detto questo però credo che questa patch non permetta non apra tanto a nuove possibilità di team quindi non credo che vedremo né team nomadi né team solariani né team nuovi fatti su questo credo che vada a potenziare team già esistenti con degli nuovi stand alone credo che renda più appetibili alcuni team multi-hitter in particolar modo quelli con astria perché li rende più versatili più completi e quindi ci regala delle ottime carte purtroppo visir credo che appunto rimarrà a fare un po' la polvere per il momento perché non è forte ovviamente per forza è solo in un team nomadi e team nomadi non non lo vedo bene d'accordo mentre invece la patch neant questo era secondo me il motivo per cui la patch neant era davvero più forte aveva messo aveva reso possibile un team mono neant davvero competitivo il team demoni qui questa cosa non è successa d'accordo quindi il mio giudizio sulla patch è ampiamente positivo davvero mi piace tantissimo c'è un sacco di eroi molto forti un sacco di eroi molto buoni di eroi che non mi piacciono ce n'è solo uno che è Netijim gli altri mi sembrano tutti buoni dal punto di vista del cambiamento sul metagame avrà un impatto minore di quella neant e soprattutto non credo che aprirà alla costruzione di nuovi team quello che potrà fare però sarà intanto ostacolare molto cambiare il metagame in un altro senso cioè nel senso che eroi con cura eroi con scarab eroi con strength eroi con polvere eccetera adesso devono stare molto più attenti quindi io credo che vedremo uno spostamento del metagame più sul multi-hitter quindi mi aspetto di vedere molti team ovviamente team carcasse si vedranno sempre però mi aspetto di vedere molti più team astria mi aspetto di vedere qualche team marauder con magari con spada insanguinata quindi penso che possa cambiare il meta in questo senso l'ultimo eroe è quello speciale nebsen oh nebsen è bellissimo fortissimo fighissimo uno dei miei eroi preferiti di questa patch ah credo che di solito io leggo il re della patch senza dubbio il re della patch per quanto mi riguarda è Ozymandias che è fortissimo è bellissimo nebsen però gli va dietro un bellissimo solariano priest un prete guerriero molto forte con questo berserk blessing 150 smite 2 e risposta allora è bello perché questo personaggio può andare contemporaneamente a counterare i multi-heater e gli utilizzatori di spada e di strength l'ultima skill molto flessibile gli permette di attaccare gli utilizzatori di spada e di forza la prima skill gli permette di settare la partita contro i multi-heater la skill centrale gli dà solidità e gli permette di avere una conta di danno immodificabile notevole ora andiamo a vedere i suoi roll vedete sono enormi naturalmente sono enormi l'eroe specifico si dice venga colpito 4 volte dopo il berserk e questo è normale quindi una cosa che possiamo dare per scontata è attiva 2 volte risposta questo non è affatto scontato e l'avversario ha almeno 140 di forza e vedete che i suoi roll stanno 2770 3020 3200 2340 qui champion questi non mi piacciono particolarmente sono abbastanza deboli 2590 2900 2650 quindi ha dei numeri molto grossi naturalmente questi numeri dipendono dalla risposta quindi comunque se Nelson non triggera la risposta fa un po' fatica come tutti i personaggi risposta è un personaggio che va accoppiato bene quindi non potete buttarlo a caso contro tutti non è uno stand alone ignorante è un personaggio molto strategico invece che apprezzo molto e che trovo molto molto carino da giocare ci darà dei bei grattacapi quindi lo vedo bene lo vedo bene anche come stand alone soprattutto perché abbiamo detto credo che si vedranno molti più team multi hitter e quindi perché no un bel berserker nomade ci stava è uno dei berserker più forti allora io credo che tuttora invidia e arcalon forse gli siano superiori però Nebsen va a completare la tripletta quindi attualmente i berserker più forti del gioco sono sicuramente invidia al primo posto e direi Nebsen e arcalon più o meno sullo stesso piano d'accordo uno va a canterare di più i marauder l'altro va a canterare di più gli utilizzatori di forza quindi direi che è un ottimo eroe mi piace veramente molto e ha un artwork fighissimo e poi è solariano io amo i solariani vicino alla bucca ci sta davvero molto bene la bucca è shurikane per chi non lo sapesse ne approfitto per questo video già è lunghissimo non lo so neanche immaginare quanto tempo sia passato ne approfitto per fare una review veloce di Chantelaine che è un personaggio che è uscito lunedì ex speciale che dura un mese per la chiusura dell'anno finirà appunto tipo a Natale o cosa del genere o il 31 dicembre quel che è un mese dagli scrigni la formula la sapete è praticamente come era come si dice come era Lucian non c'è da niente con la patch no ma di è ovviamente personaggio molto interessante credo che rispetto a Lucian sia un personaggio invece davvero utilizzabile e che potremmo vedere in meta è un ottimo marauder grande conta doge vedete 2 per hit 200 doge 1 colpo basso 120 doge 1 e poi guardate che figata questo death stare questo sguardo che uccide mille che ovviamente è sinergico con il backstab precedente naturalmente è un personaggio particolare che diventa veramente forte solo se rolla i blu d'accordo quindi un blu è d'obbligo se non rollate almeno un blu perdete a meno di rarissimi casi se ne è rollate i due è ancora meglio questo però di per sé non è un problema pensate chizana chizana se non rolla i gialli è dura che vinca quindi ci sta sinergizza molto bene con eventualmente con i multi hit perché comunque ha una componente multi hit non da poco perciò ah guardate questa bella cosa il mouse diventa più grosso comunque sinergizza abbastanza con i multi hit spreca le spade per cui cercate di non giocare è chiaro 170 non è poco però non volete rollare spade comunque è un personaggio che non vedo l'ora di provare lo preverò fra un sacco di tempo perché ovviamente sfigo sempre nelle buste comunque è ottimo può essere utilizzato con spada insanguinata può essere con occhio di gemma se volete fare una overkill di dodge e basta è un personaggio forte quindi anche lui contribuisce a quella caduta degli heavy hitter con le spade con la polvere di cui vi parlavo quindi credo che saluteremo per almeno la prossima season i personaggi con polvere e i personaggi con heavy hitter li saluteremo per un po' saluteremo anche il buon cabracan che aveva fatto un ritorno in questa season scorsa mi sa che questa season qui che viene invece non gli permetterà di essere presente quindi Chantelaine buona carta non vedo l'ora di giocarla soprattutto sono contento che non sia una carta molto sculata ma comunque si non è neanche la carta più solida del mondo però si può si può giocare penso che la potremo vedere in meta insomma ecco per i per i nuovi giocatori quindi non fatevela scappare tra l'altro perché ha un'ottima combinazione potrebbe essere una di quelle carte che vi fa magari salire per la prima volta in Lega Champion o cose del genere d'accordo? allora fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate mettetemi mi piace iscrivetevi al canale e tutte le solite belle cose che vi dico adesso vado a girare il video in inglese che sarà un parto e buon gioco a tutti buoni nomadi a tutti adc chiude grazie a tutti